Gregorio Paltrinieri è eterno, il notatore carpigiano si è superato ancora una volta accogliando la medaglia d'argento nei 1500 metri, stile libero alle Olimpiade in 14 minuti 34 secondi e 55 centesimi. Il portacolori delle fiamme oro si è dovuto arrendere soltanto all'americano Bobby Fink che ha stampato il record del mondo notando in 14 minuti 30 secondi 67 centesimi. Per Paltrinieri è la quinta medaglia olimpica, è il notatore italiano più vincente dei giochi. Se vuoi vedere la gara clicca nel link in descrizione oppure nel primo commento di questo video. Ciao!